La Roma è decima e prima delle italiane nel ranking UEFA, a due passi dal Barcellona e poco sopra l'Inter. Questo perché? Perché da cinque anni, dal famoso Roma-Barcellona di cui parlavamo anche prima, la Roma è costantemente una top delle squadre italiane nell'Europa. La Roma ha fatto semifinale di Champions League battendo il Barcellona nei quarti, ha fatto la semifinale di Europa League due anni fa, ha fatto la finale di Conference e l'ha vinta l'anno scorso e quest'anno è in semifinale di Europa League ed è ben messa in vista del ritorno di Leverkusen. È una squadra che da anni è diventata europea. Perché io dico lo strano caso? Perché gli anni precedenti era invece una costante del campionato, andava sempre benissimo in campionato, arrivando tanto lontana dalla Juve che faceva 90-100 punti, riusciva a essere fortissima in campionato, andare sempre in Champions League ma non avere un seguito. È passata dall'essere fortissima in campionato e andare male in Europa ad andare benissimo in Europa e a non riuscire mai ad arrivare in zona Champions in campionato. E io non capisco perché.